terzo giorno di vlogmas oggi dobbiamo impacchettare tutti gli ordini e in più vi mostrerò un nuovo prodotto che è arrivato da poco sullo shop il primo è un ordine composto da tre portachiavi gil alaska e anche un barboncino di nome nala e ora sono pronta per mostrarvi una delle novità sono arrivati nel negozio i nuovi scrunchies con il nome ci sono di tantissimi colori rosa lilla menta nero e ovviamente anche colori più natalizi come il rosso e il verde scuro io oggi ho messo quello rosso perché ormai per me è natale adesso sto preparando i pacchetti regalo quest'anno ho tantissime tag diverse questa qui che ho appena messa con la volpina dopo vi mostro anche l'altra con ogni pacchetto regalo avrete anche il biglietto per la dedica eccolo qui è bellissimo perché è fatto come se fosse una cartolina ovviamente ha anche il franco bollo con il mio logo la seconda tag ha un pulmino con babbo natale un pinguino ora è il momento di infacchettare questo setter inglese questo portachiavi mi è piaciuto tantissimo realizzarlo ovviamente ci è voluto tanto tempo a fare tutte le macchiette però devo dire che sono molto contenta del risultato adesso abbiamo altri due cagnolini personalizzati guardate che tenero questo con il cappellino e poi questo pastore australiano anche questo è venuto molto bene poi ci sono anche questi due portachiavi corgi questa è un'altra delle mie razze preferite il prossimo portachiavi è un cavallo che si chiama briciola e poi questo cocker tutti questi portachiavi realizzati personalizzati partendo dalla foto come anche questo cavallo abbiamo anche un pastore tedesco e poi un super ordine di cinque portachiavi anche questi li ho realizzati come da foto ma guardate che belli che sono se effettuate un ordine in questi giorni avrete una sorpresa in regalo potete andarla a vedere negli ultimi video che ho messo l'ultimo cagnolino di oggi è troppo bello guardate un po che orecchie che ha secondo me è proprio venuto bene guardate che modello che è con il suo portachiavi vicino i pacchetti sono tutti pronti vi aspetto domani con un altro video e se siete arrivati fin qui commentatemi con un cuore rosa e iscrivetevi al canale se non lo siete già